Questa sera abbiamo con noi Forso Sarani, che sarà qui adesso come anche l'altra volta con Enrico Vizzi, sarà moderato, anche se... Io rispetto Enrico, insomma, non è caso a te. Da Massimo Causo, sempre della relazione di Sentire Selvagio, anche docente della nostra scuola di cinema. È la prima volta che viene Corso a partecipare all'iniziativa della nostra scuola, mi fa particolarmente piacere, anche perché un po' tutti noi amiamo il suo cinema, un po' tutti noi di Sentieri Selvagio, qui parlo più come rivista, diciamo, più come scuola, anche se sono due anime, in qualche modo vanno avanti insieme e si fondono, si confondono anche a volte. Anche perché è un cinema che è anche difficile da localizzare, da territorializzare, in qualche modo si adatta un po' anche alla nostra idea di intraprendere di volta in volta dei percorsi, appunto, dei sentieri selvaggi della visione. È un cinema che non sta mai fermo, almeno per le cose che abbiamo potuto vedere e che spero questa sera potremo vedere anche qualche cosa, non vi anticipo ancora. Andrebbe fatto tutto un discorso sui limiti della distribuzione italiana che impedisce ad alcuni autori come Corso di avere anche una certa visibilità. per fortuna ci sono i festival, almeno c'erano, visto il dibattito attuale. Non la faccio molto lunga, vi invito ovviamente a rimanere per i film che ha scelto Corso per la serata, dopodiché lascio la parola a Massimo Canzo e meglio di me potrei introdurre il tutto. Bene, buonasera, grazie come sempre al nostro ospite, in questo caso è un amico che seguiamo da sempre con il critico affetto di chi si ritrova in compagnia di un cinema che è sempre presente allo spettatore nella misura in cui è presente a se stesso. Una delle cose straordinarie di fronte del cinema di Corso Salani e questa sua capacità di riuscire a entrare in relazione con gli stati di coscienza dei sentimenti dello spettatore attraverso un filmare che è estremamente puro ed estremamente elaborato, per quanto poi l'impatto possa apparire molto diretto, anche per i lavori documentari che fa. È un cinema che tiene sempre l'equilibrio tra la presa diretta del documento, della documentazione, non a caso, poi in particolare negli ultimi anni Corso è diventato un, tra virgolette, documentarista molto sensibile e anche molto apprezzato. È l'esigenza di mettere in scena storie che sono poi brandelli e schegge di, non di autobiografia, ma di biografia più o meno immaginaria della sua esistenza. Biografia legata ai sentimenti e di conseguenza a storie d'amore spesso trasversali, collocate in un altrove della sensibilità che molto spesso poi è un altrove geografico, no? Allora l'est anziché il sud, no? L'Argentina anziché i paesi dell'est, seguendo figure femminili che sono sempre straordinarie, estremamente vere, figure femminili nate da una costante attenzione per le proprie interpreti, per le proprie attrici. E allora per esempio l'ultimissimo suo straordinario lavoro, che mi auguro vedrete presto in tv, penso, Il peggio di noi, titolo bellissimo. Il peggio di noi è uno dei, penso intanto il film in assoluto più parlato della storia del cinema, perché sono un'ora e quaranta, no, un'ora e trenta, di monologo interiore diaristico interminabile, con una dichiarazione di amore e odio nei confronti della sua protagonista, che conoscerete stasera tra l'altro, senza anticipare tutto, del suo film precedente, Palabras, e non solo del suo imprecedente, anche del precedente ancora, di corrispondenze private. Ma il, come dire, il lavoro di Corso è un lavoro che sulla presenza fisica del cinema a se stesso nasce da sempre. Il suo film, forse più famoso perché è quello che forse più ha circolato occidente, era una straordinaria testimonianza su come il cinema, interpretato poi incarnato da lui come attore, come attore regista, sa essere e deve essere un atto di presenza nella realtà del farsi immagini, soprattutto in confronto alle interpreti, alla protagonista. ed è una costante che appartiene a tutto il suo cinema, che è spesso in bilico appunto tra documentario e finzione. Gli occhi stanchi era uno straordinario esempio di questo, perché era un finto documentario del ritorno a casa di una ragazza dell'Est, girato come se fosse un documentario, quindi con pedinamento, racconto in diretta, in macchina, della vicenda di questa donna, la parte della protagonista stessa, in realtà era tutta una straordinaria funzione messa in scena, così come messa in scena in presenza del set, in presenza della troupe con Corso, regista che riprendeva il tutto, Alessandro Piva, operatore e tutto il resto. Esperienza poi ripresa in un altro bellissimo film che era Cono Sur, andato alla ricerca degli immigrati italiani in Argentina, anche lì in presenza della troupe, questo finto documentario che nasceva poi dove metteva in scena se stesso. Ecco io partirei proprio da qui, Corso, per farti parlare. Da questa tua esigenza di essere presente al film come attore autore, sin dall'origine, voci d'Europa. Sì, sì, no, ma prima ancora maggiore in realtà, prima, diciamo, proprio all'inizio era una... fu un po' una scelta obbligata da tanti motivi, non ultimi economici, ma insomma per... e poi perché comunque nel film era già era allora un'esperienza così totale, perché comunque nasceva e tuttora segue lo stesso percorso, nasceva dal soggetto fino all'ultima, anche proprio a portare la pizza, insomma la pellicola, la sala di proiezione, con una... con la mia partecipazione spesso unico che seguiva il lavoro, per cui, diciamo, diventava molto strano, a un certo punto sarebbe stato separarsi dal... dal ruolo del... almeno del protagonista maschile in scena, insomma, mi sembrava molto difficile immaginare me in tutti i ruoli meno che in scena. Poi in realtà questo si è andato un po' perdendo, anzi ora praticamente appaio sempre di meno, ma... però perché da subito e poi sempre di più ho avuto... in realtà mi sono reso conto che... che è quello poi che mi piace anche quando vado al cinema, cioè quasi tutti i giorni, e cercare di... di confondere la... cioè di vedere... di fare un film come se fosse un documentario, di fare un documentario come se fosse un film... cioè la distinzione fra la realtà da filmare e la parte di finzione che magari è stata scritta e preparata e anche... poi viene recitata anche alla lettera, secondo il... è sempre vista un po' un po' su questo margine, che secondo me... in realtà è un margine molto labile, quasi non esiste, perché... se io penso a come osservo... e anche a come vivo, ma insomma... ma non solo io, però diciamo... ho una vita possibile, credo che sia... veramente naturale... osservarla sempre come se stessi filmando, non so, non ho un altro punto di vista, ogni... ogni momento, ogni... ogni possibile situazione, ogni... magari può diventare qualcosa che poi verrà scritto, oppure verrà filmato, insomma verrà... verrà... se è importante, specialmente... verrà sicuramente ricostruito poi in un... in un film, in un documentario. Allora... credo che sia... oltretutto con la facilità che c'è adesso di... di usare la... la... una... una telecamera, anche con risultati, penso che sia... necessario perdere sempre di più questa separazione fra la finzione e... 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 documentare la... la realtà, insomma... insomma... anche perché... eh... anche facendo un film tutto di finzione, insomma, tutto scritto e... e pensato... in realtà avvicinarsi ai personaggi, alle situazioni con... con... con lo spirito di... 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 della realtà... o comunque di documentare la realtà, se... sono certo che... aggiunge verità ai personaggi, ai loro sentimenti, diventano i sentimenti o le emozioni o le... le... le tensioni di... di persone reali... eh... forse uno dei problemi maggiori... che ho... fra i... fra i... magari avessi solo quello, però... diciamo... il maggiore quando... giro... o quando anche scrivo è... eh... ricordarmi che i personaggi in scena, soprattutto il personaggio protagonista che prende... ha preso sempre di più nel... nel tempo l'importanza... è soltanto alla fine un personaggio, quindi... ehm... ehm... è sempre molto difficile... eh... prima riuscire a darle vita... o comunque a... a... a formarla come... come... una persona e poi... è sempre... ancora più difficile staccarsene perché... comunque... eh vabbè... qualcuno che chiaramente non esiste e che poi ha una sua vita solo su... 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 sull'immagine, insomma... eh... ed è un gioco... no, un gioco... insomma... e quello, diciamo, è un lavoro... molto... affascinante perché... perché è proprio la... insomma... la creazione, in qualche modo... che è quello che poi giustifica tutto il lavoro che fai... nello stesso tempo è sempre anche molto... insomma... devastante a volte... non sempre, però insomma... perché poi... questi personaggi, in qualche modo, se poi li ami e li... 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 li segui per... poi purtroppo... eh... non è così automatico fare film, per cui magari uno scrive un personaggio che poi... riesce a realizzare tre anni o quattro anni dopo... se... a volte... quattro anni dopo se va bene, per cui... cioè... ci convivi... per... per... per tanto tempo che è anche necessario, perché poi ogni volta riesci a... a... a dare una nota in più... e... 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 e poi... quando c'è qualcuno su cui riversare questo personaggio... cioè quando trovi, appunto, in questo caso... negli ultimi casi... eh... un'attrice che si deve impadronire questo personaggio... e... e... da un lato... la... sicuramente la parte più bella del lavoro e nello stesso tempo anche la più... la più... anche dolorosa a volte, insomma... eh... si può dire i film che passano? Sì, sì, sì... No... no... non a caso, per esempio... il... il film che mi avevano chiesto di... di scegliere, insomma... ho portato il documentario di... di Kinski... no... di Herzog su Kinski... eh... il mio nemico più caro... il mio più caro nemico... insomma... Kinski, comunque, diciamo, si intitola... che è proprio una... una... un... insomma... non so se forse qualcuno l'ha visto... ma in ogni caso è un documentario... eh... così... a prima vista di un regista sul suo attore feticcio... che... con cui ha fatto cinque film... e con cui ha avuto rapporti... eh... eh... violenti... e nello stesso tempo... anche amorosi di... o comunque di... 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 condivisione di... di sentimenti... di... di lavoro... di... passione, eccetera... in realtà... io l'ho rivisto ieri... proprio perché... appunto... lo volevo portare qua... è... il documentario di... di Herzog... su quello che lui stesso pensa di... 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 chiaramente quindi è quello che un po diciamo colpisce sempre come gli attori poi alla fine diventino recettori di idee di per una capacità che hanno che io sinceramente anche se ogni tanto fatto l'attore non ho mai compreso come facciano averla di recepire di accogliere non solo le indicazioni che gli vengono date ma i pensieri le intenzioni anche addirittura i pensieri nascosti del regista che allora mi sembrava così questo documentario mi sembrava proprio indicativo e forse la forma più più vera e sincera di parlare del non solo di un attore ma di parlare di fare film ecco che erzo che insomma è una cosa che fa spesso e anche molto molto bene insomma questi cori che si sentono sono il coro da stario normale e non possibile a volte ci sono anche altre cose ecco appunto tu dicevi proprio questa capacità degli attori di entrare in risonanza tu del resto appunto sei sei anche un attore un volto non ti ricordiamo in due film molto belli uno in particolare di marco risica il muro di gomma e continente nero anche poi lavorato con gregoretti nel conto di monte cristo ecco questo tuo lavorare anche come attore come si si è una parte del lavoro che mi piace fare ogni tanto insomma che però su cui in realtà sono anche sinceramente un po impreparato nel senso che vado molto distinto e cerco di seguire quello che mi viene indicato e però non mi sento sicuro insomma comunque sempre un po uno sforzo assolutamente da fare volentieri per carità però insomma diciamo non è però ecco certe volte vedo ho lavorato diciamo da attore con attori o comunque quando ho fatto film miei ho lavorato con con attrici scopro vedo questa capacità che hanno che io non ho mai sentito in realtà non sono mai riuscito diciamo mettermi nello stesso rapporto con con il regista la regista con quello lavorato forse una volta ecco però diciamo questa capacità di di quasi telepatica insomma di di mettere in scena quello non solo quello che esattamente esattamente meglio quello che il regista ha indicato ma anche mettere in scena i pensieri o quello che lui non ancora non ha pensato non so io mi sono trovato veramente a volte ora poi detta freddo sembra molto anche retorica però poi lavorando tutto uno stato diverso però mi sono trovato a volte a vedere in scena fare in scena alle attrici con cui ho lavorato cioè a diventare come io non avevo mai pensato esattamente dovesse essere il mio il personaggio che avevo scritto per loro e cioè che avevo scritto che poi le avevo affidato ma questo perché credo veramente che si crei una comunicazione che va al di là delle parole insomma se qualcuno partecipa con la stessa intensità e la stessa passione ad un'idea che fino a quel momento è stata nella mente di chi ha scritto il film che forse cioè che si spera abbia mente regista però ci sono appunto credo che ecco essere attore sia quello insomma avere questa capacità di leggere di scoprire di rimettere di mettere poi in scena io ora non so io ho lavorato con soprattutto con soprattutto con un'attrice polacca e con un'attrice spagnola con cui ho anche avuto rapporti diciamo abbastanza difficoltosi nella nella anche se con molto affetto insomma però non so se poi questo questa passione che io riversavo nel film e quindi nei loro personaggi e anche verso di loro in qualche modo le aiutasse o comunque fossero capacità che avevano loro però credo che veramente se al di là di come poi il film può piacere o non piacere quello purtroppo non si sa però diciamo essendo io più che contento dei film che ho fatto sono anche meglio di come immaginavo fossero per me e credo che buona parte del merito sia anche di chi ha saputo recepire e cogliere questo questi pensieri che magari io avevo difficoltà a trasmettere insomma ecco ma tu lavori con preferisci lavorare con truppe ristrette no? tu dici già cinque persone sono troppe per me no? sì sei sei ecco sei compreso io ok quindi è anche molto importante il tono del set no? diciamo il clima che si crea il lavoro ecco come come lavori tu in questo senso? sì è importante no ma insomma non è io ho anche lavorato una volta appunto con Occidente che forse il film è con una troupe diciamo normale normale abbastanza numerosa insomma senza esagerare però però poi chiaramente e giustamente c'è tutta una parte di chi lavora con te che è interessata al film perché perché il suo lavoro insomma poi finite le ore delle scene insomma non è che che sia un'esperienza così stravolgente come può essere per me o come magari può essere per qualcuno della troupe con cui lavoro da tanto eccetera allora io personalmente ho bisogno di essere circondato da poche persone che lavorano con la stessa almeno con buona parte dell'intensità con cui lavoro io persone a cui affido completamente la loro parte di lavoro e che non soprattutto insomma il numero basso di persone non incide assolutamente sul film che voglio fare anzi semmai penso il film in funzione già sapendo che saremo pochi a farlo insomma decido un po' come ma non quello è anzi secondo me diciamo dando ormai per scontato che una delle ragioni della mia vita è fare film desidero ogni volta impiegare tutto me stesso nel farlo insomma non lo considero in realtà quello diciamo ne pago un po' le conseguenze però non lo considero un lavoro cioè lo considero un lavoro per vivere ma nel senso che mi serve per 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 dare un senso alla vita alla vita che suona molto però insomma è così non mi dà da vivere al limite cioè anzi senza il limite non mi dà però diciamo è il motivo per cui allora deve essere un'esperienza assolutamente totalizzante che 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 prende tutto l'amore che posso dare verso il film verso le protagoniste verso chi lavora con me io diciamo sinceramente volendo anche litigato con tutti quelli che ho lavorato però rimangono sempre persone che hanno lavorato con me e che a cui sarò per sempre legato insomma in qualche modo anche se poi le cose cambiano i rapporti però insomma diciamo perché credo che i film siano l'occasione per un'occasione intanto per vivere un'altra vita che già non è poco per metterla in scena perlomeno e poi per 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 investire tutto di di sé ecco credo che sia poi io vedo molti film anche molto industriali e mi piacciono non sono proprio un un estremista del cinema indipendente cioè lo sono per quanto mi riguarda però diciamo non ho una visione molto critica di di chi fa film più commerciali industriali anzi mi piacciono molto anche alcuni però per quanto mi riguarda credo che che insomma la strada che io devo seguire sia questa insomma tu tra l'altro nel concetto di dipendenza ci ci stai da sempre insomma no cioè anche tecnicamente tu hai iniziato a lavorare in 16 mm poi hai ricordo bene sì i primi sono in 16 mm poi sono sei passato al 35 per per occidente è gonfiato cioè era super 16 dopo di che sei passato al al video insomma al digitale cosa ma no io no la pellicola sicuramente per carità appunto io l'ho usata qualche volta così cioè vabbè il 16 mm iniziale voce d'eropera 16 mm erano vari avanzi di vari film insomma era una situazione un po però diciamo ti dà molte cose quello che non mi dà a me che non dà e che per cui preferisco anche lavorare in video per poi passarlo eventualmente in pellicola visto che poi adesso il passaggio anche anche di qualità è la possibilità di filmare tutto che quella che ti dà il video nel senso che ho scoperto per esempio che poi si torna sempre lì però per esempio in pellicola chiaramente bisogna risparmiare e filmare quasi lo stretto indispensabile col video per esempio scene di dialogo i piani d'ascolto in pellicola fai 10 secondi poi chissà dove lo userai mentre girare in video permette ad ogni personaggio secondo me di mantenere il suo il disegno della sua storia all'interno del film perché comunque lo puoi filmare se in ogni parte della scena se in un film come si può fare ma dopo passerà palabras che il film che ho girato in cile che è molto parlato ci sono c'è questa ragazza questa attrice spagnola che parla e racconta la sua storia d'amore a delle amiche per esempio che le quali ascoltano ogni tanto intervengono eccetera ecco la possibilità del video è che il piano d'ascolto anche lungo anche di cinque minuti poi chiaramente vengono tagliati eccetera possono essere girati possono essere girati in più in quadrature e quindi l'attore si sente sempre sotto intanto non si sente mortificato di dover fare di una scena che magari dura dieci minuti dieci secondi proprio per comodità e poi riesce a mantenere il disegno del suo personaggio e in più tu regista in modo di girare non a oltranza perché non mi interessa però di girare il più possibile della scena che ha in mente per cui è un vantaggio assolutamente straordinario per quanto mi riguarda e però ho visto che che funziona anche con con gli attori che appunto si renda un pochino anche un po più di dignità al loro lavoro insomma e non toglie qualità ecco tecnica oppure abbassa appena qualità tecnica per cui insomma un'altra cosa importante c'è la prima federico no il tuo cinema in cinema in viaggio no praticamente tu non è facendo ci pensavo adesso non hai mai girato un film in italia a parte occidente che però un italia che non è un italia insomma no è occidente girata ad aviano che vabbè insomma dove la base militare cioè in realtà sarebbe nato però poi una base americana insomma in realtà ed è un villaggio americano un paese americano statunitense no sì perché appunto è quello insomma il tentativo sempre di vivere comunque di rendere unica l'esperienza del film insomma io non credo sinceramente c'è lo vedi anche quando ho girato per altri così l'idea di girare a roma insomma uscire di casa la mattina tornare la sera insomma sì uno lo fa per carità però insomma non è così coinvolgente come allora poi penso che sia un altro grande vantaggio del girare in pochi e di girare è quello proprio di occuparsi anche di storie apparentemente lontane da dal posto in cui sei nato in cui vivi o dal tuo paese insomma non spesso l'orizzonte un po limitato per problemi di costi o comunque di io non credo che di dovermi occupare solo di storie italiane per il fatto di essere italiano insomma credo che il cinema sia proprio l'occasione migliore per per poter dare uno sguardo anche rimane che rimane il proprio sguardo però dare uno sguardo anche al a cosa succede più in là anche molto più in ovunque insomma quindi fra l'altro se proprio uno deve fare i conti andare a girare all'estero in poche persone non è così drammatico rispetto al girare in italia anzi forse forse siamo lì insomma non i costi sono gli stessi insomma ecco appunto i costi cinema indipendente no tra l'altro siamo in un contesto quello della scuola di sentire selvaggi no teniamo insieme il corso di regia anche il corso di recitazione parliamo un attimo di diciamo di costi ma di costi non tanto in termini economici ma come idea cioè il cinema indipendente è un'idea no di costo basso però è anche come dire una ricchezza in più in qualche modo sì sì assolutamente no quello sì ma è costo basso se uno se uno ci arriva con l'idea che sia un ripiego ma siccome secondo me non lo è anzi certo dipende perché con io veramente con con senza nessuna ironia ma insomma chiunque faccia scelte commerciali o scelte di cinema industriale allo stesso rispetto di chi fa cinema indipendente per quanto mi riguarda non ho l'importante magari è che lo dica ecco che che perché poi c'è tutto un cinema indipendente poi non è indipendente che quello un po irritante però ciao non non ho invece credo che gli svantaggi del cinema indipendente che poi è quello a cui ci si può avvicinare più facilmente per appunto per i costi però in realtà possono essere trasformati in vantaggio insomma anche in una in una ricchezza in qualche modo intanto l'assoluta libertà di fare il film che ha in mente che già questo basterebbe a farsi ad auto farsi un monumento insomma riuscire a così a realizzare il film che 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 esce insomma in mente insomma che ti esce dal cuore poi diciamo è chiaro che ci si deve adattare ai mezzi che si hanno però non credo che le storie poi in realtà possano essere raccontate in mille modi fra cui c'è un modo per la stessa storia un modo molto ricco e quindi obbligatoriamente costoso è un altro modo anche che magari entra un pochino un po più in profondità dell'animo dei personaggi della storia del film dell'argomento che quasi basta una cinepresa una telecamera non proprio però insomma diciamo a cui ci si può avvicinare l'importante che che poi arrivi insomma che che ci sia qualcosa di cui parlare che arrivi o almeno l'importante sperare che arrivi perché poi quello sul risultato nessuno purtroppo non si sa mai insomma però diciamo credo che almeno l'onestà e la sincerità quello arriva comunque proprio annoiare non piacere può piacere può anche emozionare però insomma quello dipende poi da ognuno ma come dipende per tutti gli altri film ecco ma cosa cosa è assolutamente necessario non mi rispondere la telecamera e cosa è superfluo nel cinema indipendente voi è necessario io credo che sia c'è la voglia di fare il film ma la voglia di fare il film significa che non potrei che non puoi non potresti fare altro insomma che 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 il motivo per cui insomma per cui poi affronti tante difficoltà e tante 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 anche svantaggi e anche le telefonate delle banche del fisco quelle purtroppo fanno parte del gioco del cinema indipendente però ecco se poi uno deve fare un bilancio nonostante tutto tutto alla fine spero più in là possibile potrà dire ho fatto i film che i dieci sette otto film che avevo in mente che non mi sembra un brutto modo di impiegare la vita ecco però diciamo serve serve che 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 sia insomma che siano film e poi veramente sentiti poi ci sono altri film appunto però quello è un altro argomento ma che servono più magari per lo spettacolo così per che va benissimo ma forse diciamo per per gli stessi autori sono meno importanti insomma dipende a quanto uno vuole investire di sé soprattutto oltre che di quello che ha o che spesso non ha ecco tutti i tuoi film nascono da un confronto con una figura femminile estremamente forte no di cui sei innamorato sul set a priori comunque già dal momento del nome sulla pagina sì no sì va beh ma perché bisogna mettere in moto in effetti tutto un meccanismo di sentimenti che ha bisogno di trovare diciamo quasi un punto su cui concentrare diciamo anche una vittima quanto riguarda la protagonista che lo farà allora non è che che uno si innamora scherzavo diciamo a priori però si affeziona talmente ai protagonisti a tutti però soprattutto alla protagonista nel mio caso che guida tutta la storia e quindi attraverso di lei passa quello che in mente io quello che in mente l'attrice quello che il film vuole vuole dire anche se non ha chiaramente messaggi da dare però insomma quello di cui parla il film passa attraverso di lei anche perché sono sempre protagoniste assolute allora c'ho il personaggio piano piano prende una forma tale che diventa una tua diciamo così creatura per cui chiaramente viene amato e rispettato e disperatamente insomma senza poi il momento in cui poi lo stesso personaggio viene affidato a qualcuno che lo fa e allora spesso può capitare che ci sia un malinteso per cui questo sentimento anche violento che viene riversato forse difficile distinguere verso chi è riversato però poi insomma sono le cose credo che succedono perché quando comunque facendo un film si mettono in gioco degli stati d'animo allora è chiaro che si possono creare però insomma non personaggio femminile a me serve cioè non mi nasce nessuna storia con un personaggio maschile protagonista mi serve per per sentire questo trasporto verso il film e quindi che poi anche un buon modo penso per nascondersi in qualche modo dietro a un personaggio perché comunque un personaggio maschile sarebbe troppo vicino a me anche se io diciamo non faccio cioè i film che penso magari non nascono non sono autobiografici però chiaramente ognuno poi mette tanto di sé o di quello che ha visto di quello ha visto vivere insomma avere un personaggio femminile serve sicuramente a nascondersi a prendere un minimo di distanza anche se stranamente i film che ho fatto con con protagonisti femminili forse sono quelli in cui mi sono esposto di più personalmente però tanto diciamo erano loro che si esponevano per cui io rimanevo diciamo vagamente nell'ombra insomma nascosto questo senso provo a immaginare quanto difficile sia l'operazione di casting per te no tra l'altro appunto il peggio di noi inizia proprio su queste sequenze di casting non ricordo il nome di Paloma Caglia la ragazza spagnola si protagonista poi di Palabras che vedremo stasera si che era già stata tra l'altro protagonista di corrispondenze private no? che era un film molto particolare perché tu avevi preso questa tua nuova interprete prima di farle girare Palabras l'avevi come dire costretta a ritornare sui set dei tuoi film precedenti come dire per farle entrare nel tuo nel tuo lavoro ora detta così sembra un'operazione sì insomma era un piccolo film in realtà fatto un po' più per noi che per poi a girata ha fatto un po' di sue proiezioni però era diciamo una prova generale per il film in Cile che poi passa dopo aspetta non mi ricordo sì no è l'operazione di casting no? ah sì no il casting ma il casting in realtà è molto è un'operazione molto strana perché ora diciamo io ho fatto cast faccio insomma quando devo cercare un protagonista poi io mi affeziono allora cerco sempre di lavorarci due volte poi oltre due non mi è mai riuscito ad andare adesso pare che ci sia una terza occasione proprio con Paloma però anzi una quarta però è difficile però è molto strano perché in realtà arrivando agli incontri poi non è un vero e proprio casting arrivano magari scegli vedi sulle foto alle agenzie ma soprattutto poi agenzie io ho avuto modo di lavorare con soprattutto con i sindacati attori dei vari paesi dove l'ho fatto scoprendo poi un panorama di attori di attrici bravissime che magari non hanno mai avuto la loro occasione per cui mi piace anche quello ecco non è che mi senta particolarmente generoso però diciamo così che di riuscire a fare un film e dare una possibilità a qualcuno che magari non è possibilità che poi in realtà serve più a me perché magari non c'è tutta una struttura di così diventa più facile i rapporti sia economici che di tutti i tipi insomma però in realtà è molto strano perché incontrando 100 150 persone può capitare così ti saluti parli così fai leggere la scena così però poi il momento in cui entra quella che che diventerà la protagonista questo credo succeda spesso insomma a molti già nel momento in cui entra senti che sarà lei poi il provino diventa relativo insomma è come se si impadronisse del personaggio che che ha in mente che gira nell'aria insomma è molto così a istinto non io ho anche rivisto anche fatto rivedere alle attrici i loro provini e sono stati sempre peggio di molti altri fatti da altre attrici però c'era magari una comunicazione particolare o comunque un impegno un modo che mi hanno fatto poi scegliere ma scegliere ma non hanno fatto ma hanno subito convinto che che sarebbe stata era la persona che cercava insomma per cui non mi interessava poi se avessero esperienza non l'avessero così molto veramente istintivo insomma la scelta ed è anche affascinante perché inizialmente lì a prendere poi vita il film insomma a prendere a mettersi in moto tutto ecco questo lavoro di relazione con le figure che poi mette in scena pensavo ai tre ritratti femminili tre donne d'uropa in europa che avevi realizzato due anni fa che erano tre ritratti femminili di donne vere reali pure lì avevi fatto tutto sommato un'operazione di casting però come era funzionato perché poi il casting rispetto a un documentario come come funzionava in quel caso ma no erano io questo era un lavoro fatto erano una settimana nella vita di tre donne di tre differenti paesi dell'europa dell'est in realtà erano i paesi che entravano in quell'anno nella comunità europea quindi in Lettonia, Ungheria e Polonia e allora avevo pensato tre possibili figure che però non conoscevo e poi avevo fatto dei sopralluoghi cioè avevo fatto un viaggio diciamo poi in realtà così guardando cercando di conoscere qualcuno e avevo trovato una maestra di sci in Polonia poi una maestra di scherma ma casualmente due sportive in Ungheria e una disegnatrice di pupazzi in Lettonia per cartone animati ma è strano perché quello io l'ho notato spesso c'è una disponibilità a volte sorprendente nel farsi filmare ma non tanto per esibizionismo così ma anche per esempio nei documentari tante volte in Argentina arrivavo in un posto facendo il documentario sugli immigrati europei e conoscevi oppure fermavi proprio uno per l'assaltante in Argentina sono tutti immigrati per cui vedi uno e magari ti sembra, non so, russo ma la disponibilità a raccontarsi ma addirittura la disponibilità da accontentare la tua richiesta non tanto a esibirsi per la telecamera quello mi ha sempre molto colpita colpito insomma e l'ho trovata spesso in tanti posti insomma allora anche nel caso delle tre ragazze è stato un casting in effetti ne avevo incontrate varie poi ho scelto quelle che immaginavo che la loro vita riempisse insomma le immagini della loro vita riempissero meglio però ho trovato tante persone che senza nessun, diciamo, compenso o comunque un minimo rimborso o così erano disposte a avermi me e un altro averci al seguito per una settimana vivendo la loro vita normale insomma chiaramente con delle pause però e quello è stato un momento è stato molto in realtà forse il documentario non è riuscitissimo però è stato molto strano farlo intanto perché entri veramente nella vita di una persona per cui non so cioè anche divertente anche imbarazzante anche comunque a volte ti trovi al tavolo in tre cioè la ragazza è fidanzata e te che fai con la palmarina oppure però la cosa strana è che quando ti stacchi dalla vita di queste idee rimani perché in qualche modo ne fai parte e allora non so loro sì così però diciamo a me mancava delle abitudini che avevo preso e comunque come al solito ogni lavoro poi anche quello si è trasformato praticamente in un sopralluogo comunque in un'occasione per avere degli spunti poi delle idee per i lavori successivi che praticamente va avanti dall'86 questa storia di riutilizzare spunti, suggestioni, emozioni così da un film all'altro se non addirittura immagini insomma da un film all'altro ecco un altro documentario che è molto bello è quello c'è un posto in Italia che tu hai girato durante la campagna per le primarie di Nicky Vendola no no scusa per le elezioni vero e proprio sì ecco pure lì emergeva questa tua straordinaria capacità di non esserci sul set cioè questa tua invisibilità incredibile che permetteva poi ai personaggi di agire come se fossero in tua assenza in senso in tua presenza ma infatti Vendola ogni tanto cioè che poi quando ha visto il tuo documentario non si ricordava assolutamente di avermi avuto al seguito insomma in tante ma sì ma quello quello è una cosa appunto che ti permette ecco che ti permette il video insomma soprattutto nelle telecamere già quella un po' troppo grossa per esempio forse una palmare o comunque quella di poter seguire e con un radiomicrofono o comunque con un microfonino appena così e comunque di qualità e di poter seguire un personaggio nella sua vita scomparendo dietro di lui insomma quindi filmarlo senza filtri insomma nel caso di Vendola era anche molto emozionante sia per così perché era l'occasione lì delle elezioni così poi girava tutta la Puglia io praticamente ho viaggiato sulla macchina della scorta insieme per parecchio tempo insomma ho scoperto anche posti persone e ho scoperto anche una una passione e un sentimento di partecipazione che io personalmente non ho insomma e quindi mi ha molto emozionato farlo ma perché anche lì bisogna credo insomma almeno per quanto mi riguarda perché una volta fu proiettato e a bell'aria il documentario c'era un ragazzo del Veneto eccetera e dice sì no va bene ma perché non fate i documentari su Galan Anchicelli uno cattivissimo non so il governatore del Veneto non so il sindaco di Treviso insomma uno assolutamente che no magari merita un documentario però io non sono non sarei capace di farlo io penso che di dovermi affezionare o diciamo innamorare in senso vasto di chi filmo non sarei capace di filmare per mettere in difficoltà o per mostrare l'orrore di una persona insomma l'orrore credo che poi dietro ci debba sempre essere un sentimento d'amore insomma o comunque di affetto per cui non io non ho proprio idea nemmeno lontana di come poter fare non so qualcosa di denuncia o di e se anche lo facessi andrebbe a finire che mi affezionerei all'ultima particella di bontà di uno e quindi alla fine sarebbe un personaggio positivo o comunque tant'è che il peggio di noi che è questo appunto dicevi che io pensavo fosse una dichiarazione di rabbia totale contro chi ha fatto il film con me perché magari giustamente poi si distraeva cioè altre cose da pensare non solo il film in realtà è una dichiarazione poi d'amore sia a tutti quelli che l'hanno fatto insomma credo che nessuna attrice abbia avuto una dichiarazione pubblica d'amore come no per il ruolo sì esatto insomma non so se c'è qualcun altro però insomma diciamo perché poi in gioco sono sempre quei sentimenti lì insomma penso senti appunto la tua non presenza la tua assenza non la tua invisibilità sul set però è interessante che tu sia arrivato a quel percorso partendo da due film in particolare che sono gli occhi stanchi e poi il successivo con Osur tutte e due in bilico tra documentario e finizione in cui però anzi la troupe era protagonista cioè era proprio in scena ma era protagonista proprio anche di fatto sì sì ma lì è un po' strano perché cioè è un po' strano però nel caso degli occhi stanchi anche di Cono Sur sono stati abbastanza vicini nel tempo quei due lavori però gli occhi stanchi arrivava tipo dopo cinque anni in cui non ero riuscito poi ero stato in Argentina insomma avevo fatto altre cose e non ero riuscito a fare nemmeno un cortometraggio di cinque minuti insomma e quello che mi mancava è che era proprio la vita di troupe che poi nel mio caso la vita di cinque che aveva che io lavoro ancora con almeno fino al peggio di noi non so che che succede ma diciamo con quelli con cui ho fatto la scuola a Firenze nell'83 per cui diciamo mi mancava proprio la vita di troupe la vita di del film insomma e allora era talmente urgente riviverlo che non solo mi è venuto naturale riviverlo nella realtà facendo il film ma anche nel metterlo in scena insomma per cui la troupe diventa in tutti e due i casi una troupe che sta facendo un documentario e quindi è in scena solo che ognuno interpretava se stesso perché non è che ci fosse una troupe composta da attori per cui Piva che prima ancora di fare regista poi era operatore era ogni tanto appariva nello specchio così poi c'era il fonico col microfono insomma erano però davano così dava comunque stranamente davano un effetto di realtà cioè era un effetto era realmente un effetto di realtà a una cosa che in realtà in cui di realtà ce n'era poca perché era costruito scritto eccetera quindi era già stato pensato sì 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 era già stato pensato e anche le scene di troupe erano state scritte quelle che avevamo improvvisato ci eravamo divertiti tanto però poi non sono state montate ma l'effetto in realtà era tale che per fortuna che anche negli occhi stanchi per esempio la storia di questa prostituta che in realtà era un'attrice con cui poi ho fatto occidente dell'accademia di recitazione a Varsavia e alle proiezioni a cui abbiamo partecipato veniva scambiata per una vera prostituta per cui c'era sempre molto imbarazzo molta attenzione soprattutto insomma le persone più anziane così ad avvicinarla eccetera lei ferocita però insomma era un effetto io poi lo dicevo che era un film però insomma nonostante questo a volte qualcuno non ci credeva pensavo fossero una difesa nei confronti di questa attrice Polakans di consonanza la curiosità è che quanto scrivi i tuoi film come sono strutturati a livello di scrittura quanto lascia l'improvvisazione o come dire al momento che cade sul set no i film sono scritti tutti completamente a parte ci sono stati un caso forse un caso o due in cui non era scritto no corrispondenze private c'era un soggetto però insomma diciamo no le sceneggiature sono scritte e anche rispettate abbastanza la lettera quello che mi piace molto è che poi sul posto entrano tante sollecitazioni o suggestioni o modi di dire o modi di abitudini cose che che quelle però si prendono facendo il il film vivendo quel tempo lì nella zona dove è ambientato il film per cui una delle cose più belle che riconosco cioè adesso diciamo mi vanto però mi è stato detto spesso è che i film fatti anche vabbè diciamo l'elenco dei paesi non è nobilissimo però il film è fatto il documentario in Romania in Cile qua e là chi l'ha visto di questi paesi ha sempre detto che sembrava fatto da uno del posto insomma perché chiaramente entra diciamo la la realtà delle cose allora per esempio nel film che passa dopo ci sono le due attrici cilene che hanno messo molto su un testo che avevano hanno messo molto dei loro modi di dire addirittura dei modi di dire della ricca borghesia giovanile di Santiago insomma sono sempre aspetti bello andare a vedere scoprire perché poi uno così se li immagina però poi quando li scopre sempre poi danno realtà ancora più realtà al film insomma non so se ci sono domande da parte del pubblico quindi praticamente ho capito che giri altrove in altre in altre nazioni le storie però le scrivi in Italia sì 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 quindi sono storie universali sì oppure studi la storia diciamo ambientata già nel luogo no 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 sono storie che potrebbero accadere ovunque ora nel caso di sì diciamo potrebbero accadere ovunque che poi diciamo c'è il nucleo della storia potrebbe accadere ovunque poi mi piace pensare a seconda dei luoghi che ho in mente che cosa poter aggiungere cosa magari devo togliere però ecco diciamo nel caso di Palabras che poi passa tanto non è che uno rivela niente nel senso credo che il Cile anzi i quartieri alti di Santiago del Cile sia uno dei pochi posti il Sud America insomma dove è possibile che le ragazze tre ragazze molto ricche benestanti eccetera passino un fine settimana di chiacchiere fra loro ridendo scherzando allora ho pensato siccome appunto avevo frequentato il Sud America mi ricordavo che insomma diciamo non sarebbe stato così strano allora però poi la storia è una storia d'amore che chiaramente può accadere a chiunque ovunque però perché penso che non ci siano differenze di luoghi per le storie bello è far entrare dei luoghi molto nel film insomma nel caso di Aviano anche lì è una storia molto silenziosa fra una fra una ragazza rumena e un professore una ragazza aveva partecipato alla rivoluzione rumena nell'89 e ci sono anche delle immagini girate all'epoca insomma sì e quindi diciamo però mi piaceva isolare questa ragazza assolutamente balcanica in questo villaggio perché è veramente un villaggio ci sono 30.000 americani insomma si parla inglese si paga in dollari insomma mi piaceva immergerla in questo occidente esasperato insomma però poi la storia che c'è dietro di questo rapporto molto silenzioso ma forte di amore d'attrazione anche di compassione quella è una storia che penso insomma possa succedere ovunque però sì le storie sono il soggetto è sempre nasce insieme il soggetto e il luogo dove ambientarlo insomma e il nome della protagonista sono le tre condizioni per le storie che scrivi le scrivi da solo oppure fanno sempre parte del gruppo dei cinque che sono scritte più umani c'è stata una sostituzione no io ho sempre scritto con una con una ragazza con cui ho scritto tutto quello che Monica Monica Rametta sì che è stata anche interpreta che è stata interpreta dei primi due film quindi a quattro mani a quattro mani sì poi adesso da qualche tempo ho cambiato però diciamo ho cambiato insomma non scrivo con un'altra sceneggiatrice però sempre sì sempre a quattro mani sì sì ma il fatto che sia una donna la questione di te è importante per la verosimiglianza dei personaggi femminili o essere un caso non lo so è un caso penso perché per esempio sì no non è che ci sia la distinzione anche perché parti maschili non ci sono quasi più per cui diciamo no no ma io sinceramente se devo scrivere personaggi femminili scrivo direttamente al femminile insomma cercando di immaginarmi almeno quello che io penso come possa scrivere una donna insomma no ma non è che ci dividiamo i ruoli insomma confrontiamo così però non invece sul problema della lingua come affronti? il problema della lingua? in fase di sceneggiatura dico ma una delle imprese più eroiche della mia carriera è stata tradurre in spagnolo la sceneggiatura di Palabras però poi purtroppo Paloma l'ha fatta tradurre al cugino che parla molto meglio di me ho fatto però no quello lo scriviamo in italiano e poi nel caso della rumena non parlava per cui abbiamo risolto così parla qualcosa però in italiano no però per esempio no c'è si dice pace c'è anche dei dialoghi con le amiche in italiano ma la cosa è un po' spaventosa degli attori che si riallaccia e che mi colpisce cioè c'era questa ragazza polacca che non parlava italiano e che impersonava una rumena già quindi partiva d'endicap diciamo era un po' sbalestrata però per esempio ha dei lunghi dialoghi con una sua amica rumena che però parlavano in italiano perché sono talmente smarrita hanno perso la loro identità che in quel posto così strano come Aviano o parli italiano o parli friulano allora loro parlavano italiano per non sapere che lì sul posto parlano la lingua friulana allora loro ecco però era talmente aveva conquistato talmente il personaggio questa questa attrice che ha imparato a memoria senza cioè sapendo che cosa c'era perché aveva la traduzione accanto però ha imparato a memoria lunghi pezzi lunghi anche monologhi in italiano che io credo sia una cosa capace di fare solo chi in quel momento è attore ed è aderente al personaggio che gli è stato chiesto di fare perché imparare una pagina di testo una pagina piena proprio di testo in un'altra lingua senza conoscerla cioè se a noi se a te ti chiedono imparare una pagina in polacco scappi però ecco quello secondo me si tratta proprio dell'aderenza della partecipazione con cui gli attori si impossessano dei personaggi e quindi hanno anche capacità così singolari insomma che a me personalmente colpiscono sempre insomma ma la comunicazione con queste attrici come avviene sai parlare tutte queste lingue no lo spagnolo sì no se no è in inglese la rumena la polacco sì no c'è l'inglese che aiuta io non lo parlo benissimo però si parla un po' di polacco si no vabbè tre o quattro si sta un po' rascondendo no qualcosa di polacco ma cioè si attacco una conversazione in polacco abbatto la comunicazione perché è una lentezza no ma in realtà poi non è che ci sia bisogno di tanta comunicazione credo che poi insomma diciamo la comunicazione avviene sul film che le viene dato e che le viene affidato e su anche la disponibilità con cui le viene affidato io non sento tanto il bisogno di dirigerle sì può capitare chiaramente però insomma diciamo di seguirla scena per scena di studiarla insieme in genere già i primi due tre giorni ti accorgi della strada che prendono finora a me è andata bene la strada le strade che hanno preso e quindi non è che sia una passeggiata poi però insomma diciamo soprattutto non avendo particolari rapporti al di fuori del set o comunque del non credo che sia un po' quella insomma la comunicazione che è necessaria il fare il film è il punto di contatto per il resto né io né loro anche se mi dispera sempre però né io né loro abbiamo credo bisogno o necessità particolari di essere vicini insomma però però nello stesso tempo sono sicuramente le persone con cui ho la comunicazione un maggior grado di comunicazione non so come di profondità anche di con cui ho la chiara impressione di essere capito anche senza parlare insomma diventa tutto molto così messianico però in realtà però succede non so forse ma questo forse è dovuto anche che so alla sceneggiatura che è una struttura già molto forte per cui loro possono entrare bene nella storia sì ma anche sì no sicuramente quello perché gli arriva come se l'avessero scritta loro in qualche modo però credo anche dai sentimenti con cui viene offerta la sceneggiatura credo che se gli attori la sappiano cogliere insomma riescano per questo però poi rimane anche non so una parte inspiegabile ma non è che sia necessario per forza spiegarla però è sempre insomma poi quando si parla di sentimenti è sempre difficile poi capire meccanismi le cose chissà insomma succede per fortuna succede le cose vanno avanti insomma io ti volevo fare una domanda invece riguardo alla visibilità dei tuoi film sì o a volte invisibilità quindi anche un po' la parte dei tuoi film si sono visti si vedono attraverso i festival sì volevo capire come tu vivi questo rapporto tra il fatto di girare questi film con desiderio di avere un pubblico e poi di trovarlo però nei festival sì forse i festival sì magari servono così per presentare il film poi c'è tutto un circuito un po' misterioso però ho anche frequentato e negli anni sempre più frequentato di cine club cinema ma anche grandi insomma anche cicli che fanno in cui sono molto attento pubblico molto attento io diciamo lo so io per primo di non fare film voglio dire se il soggetto di occidente che è il film di maggiore successo diciamo una rumena a vivaviano è difficile aspettarsi di fare il grande successo internazionale però credo così che bisogna un po' adattarsi ai circuiti che ci sono sperando che piano piano mi sembra ci sia una maggiore attenzione insomma si sta non essendoci quasi più sale commerciali de sé forse la gente piano piano sì quelli che vogliono vedere poi hanno una loro vita magari appunto durano molto a lungo girano a lungo poi passano magari in televisione anche se è tardi insomma che ci sono dei settori di Rai 3 insomma che ancora ospitano che ancora permettono i passaggi allora nel mio caso per fortuna diciamo essendo i costi sempre molto bassi insomma non ci sono perdite economiche spaventose per chi li produce però insomma è un altro tipo di circuito rispetto a quello normale chiaramente anche se poi per esempio è strano perché Occidente sempre insomma che uscì al Nuovo Olimpia nel 2000 mi pare lì al cinema incassò anche più di un film di Bruce Willis che era nell'altra sala il che è una grande soddisfazione però solo che Bruce Willis era in 15 sale e io ero in una però insomma stette anche molto più di quanto era previsto eccetera ma anche Palabras poi è che sì insomma sai c'è un'offerta tale che poi e sul satellite invece viaggiano ma sui guarda su sul satellite qualcosa è passato sì su Rai 3 è passato parecchio sì sul satellite anche e stranamente sulla televisione ogni tanto c'è tipo Occidente è diventato un piccolo cult in Lituania con anche mi hanno mandato una rassegna stampa che non ho saputo tradurre ma con paginoni perché credo sembrava bella sì no no speriamo credo una pagina di insulti no no mi disse la signora della dell'ambasciata che l'avevano preso un po' come un po' come avvertimento ai Lituani state attenti che l'Occidente è anche questo ecco quindi ha avuto anche una funzione didattica oppure in Ungheria è passato insomma in Albania tutti ma perché piratano le copie e le sottotitono anche con Osul passò il giorno dopo che era passato su Telepiù è sottotitolato in Albanese lo vide Piva mi pare e poi insomma passano sì è una lotta è sempre non c'è mai la sicurezza però io per primo ma anche chi magari poi ha lavorato con me da parte della produzione così è disposto a passare più tempo a fare molta fatica però insomma è tutto duro in realtà sinceramente però rimane sempre la cosa la prima cosa che sei stata detta poi che poi alla fine l'hai fatta insomma e quindi è già un passo avanti poi il resto non dipende neanche più da te non so quello che che poi succede insomma la domanda la dobbiamo fare cosa stai lavorando adesso sì no che progetti hai nei prossimi quattro anni no i prossimi quattro sono occupati come progetti poi non so se no io in realtà tutte le volte ho annunciato i programmi poi sono stato fermo per cui però adesso siccome sono a metà allora posso posso dire grazie al mio predecessore qua sto lavorando per Gezi sto facendo una serie di di sei film documentari da un'ora su ai confini dell'Europa tanto novità insomma ogni film ha una protagonista femminile che ci guida nel suo paese di confine all'Europa non solo confine all'Europa ma proprio il confine del paese in cui giriamo per cui abbiamo girato a Ceuta poi andiamo insomma sulle linee di confine quindi sto lavorando su quello truppa di due persone più la protagonista quindi ancora di me sì però lì è un documentario anche se ci sono delle parti di finzione però insomma sono abbastanza semplici nel documentario in realtà è molto comodo essere pochi al di là dei costi perché veramente riesci a entrare nella vita che accade non solo però non intimidisci le persone che incontri riesci a entrare in situazioni in cui una truppa anche piccola sarebbe di troppo insomma è molto e poi tu stesso fai parte quali sono gli strumenti base che ti porti per fare questi documentari una telecamera due radio microfoni un microfono ambiente buono basta cioè basta poi se c'è qualcosa altro meglio però insomma diciamo un po' di aggeggi lì mi caricano l'operatore mi carica lo zaino ma non so che però insomma ecco diciamo con una così e i due radio microfoni perché il vantaggio del radio microfono sembra tecnico ma in realtà è quasi autoriale che lo metti la mattina addosso alla protagonista e quella se ne dimentica dopo mezz'ora ma subito per cui è comodo perché riprendi veramente la vita mentre succede insomma mentre viene vissuta per cui quello è sempre documentario sì due proprio se uno proprio tre ma già tre è tanto insomma ma se le proponessero di fare un film a grosso budget magari non scritto da lei faccio una controproposta faccio dieci miei no vabbè cioè dipende in che periodo economico sono però no penso sinceramente non lo saprei fare cioè magari ci proverei oppure se però no magari mi è anche stato chiesto a volte non proprio film così magari però insomma però bisogna sentirlo perché farlo per farlo allora veramente preferisco riuscire a fare dei piccoli documentari ma in cui insomma entra qualcosa di te insomma però ripeto non non chi lo fa tutto il mio invece come attore è lo stesso discorso anche se lì diciamo no mi piace mi piace non credo di essere diciamo naturalmente portato a farlo però finché diciamo qualcuno mi chiama se il film e la persona mi piace mi interessa se lo faccio volentieri insomma ma poi è capitato ora ultimamente tanti magari ragazzi mi hanno chiamato più che volentieri però diciamo non magari non vada ai provini ecco però se qualcuno può capitare allora sì è sempre un'esperienza veramente si impara tanto da qualunque set anche i più lontani dal dal tuo io per esempio organizzo i miei film la produzione l'ho imparata lavorando su un film di Celentano ecco per esempio che sinceramente è quanto più lontano da me ci possa essere però sì ai tempi sì ai tempi il burbero poi un altro il mostro di Fireni tutti questi film no lì non c'era Celentano ma insomma erano tutti i film però ecco per esempio è stata un'esperienza assolutamente positiva perché ho imparato a organizzare i film o comunque ho imparato a sapere a cosa rinunciare soprattutto insomma e così i set delle altre persone sono sempre assolutamente utili insomma la media dei giorni con cui giri un film in digitale è più o meno qual è un costo basso di un film in digitale la media io credo insomma diciamo se proprio uno solo può permettersi se può permettersi di arrivare a cinque settimane quattro cinque sarebbe l'ideale poi uno lo fa anche in meno però insomma è un po' complicato io penso ora non so però diciamo senza portarlo in pellicola un film completo forse 100.000 euro 120 insomma anche meno però sai lì poi bisogna vedere che film è perché insomma dipende dove lo giri però insomma più o meno forse meno dagli 80 in su insomma sì ma poi diventa un inutile togliere a quel punto cioè oltre un certo limite è assurdo bene se non ci sono altri passiamo ai film interventi passiamo ai film che è già presentato in realtà però sì gli diamo in che ordine gli diamo Palabras e poi sì e poi sì no Palabras appunto è il film che ho girato in Cile ecco ecco sui costi diciamo una volta finito tutto che costi c'era anche una produzione io sono entrato in una parte eccetera è costato mi pare no mi pare è costato 180 mila euro metti tutto compreso però il passaggio in pellicola non ha copie non miei perché non ho mai visto una cifra tutta insieme però diciamo ho investito io una parte però appunto un film in Cile per cui dall'altra parte almeno in un altro continente eccetera però questo dimostra che in realtà girare all'estero in alcuni paesi dell'estero certo se giri in Svizzera no però se giri in Cile al di là riesci anche a tenere bassi i costi con tanti attori volendo eccetera però un film a cui io sono molto affezionato anche perché in realtà è composto da quasi da tre film appunto corrispondenze private che era questo questo film montato sui provini per il cast e poi da questo il peggio di noi che è un po' l'epilogo e comunque è un film niente in cui non lo so come al solito è piaciuto molto ed è anche anche irritato ma insomma altri per lo più è piaciuto per fortuna però quello fa parte dei rischi è una credo che è visto assolutamente dalla parte di una donna insomma il personaggio protagonista è una ragazza questa paloma di cui abbiamo già detto tanto e lo so è difficile presentarli i film è una parte girata a Santiago e una parte girata in un paesino delle Ande sulle Ande dove c'è un vulcano insomma che tutto molto sembra dire molto esotico in realtà anche questa storia ecco potrebbe essere ambientata ovunque a me interessava andare là perché per motivi non ultimo forse il primo perché volevo passare un po' di mesi in Cile ed era una buona occasione per starci però poi in realtà protagonista reale sono i sentimenti e questi ricordi amorosi della protagonista per cui insomma come si sente può succedere ovunque insomma però credo che lo sfondo gli ambienti arricchiscano poi quello che e poi il film di Herzog appunto è questo documentario sul suo attore che dice in forma filmica praticamente tutto quello che ho detto io lo dirà anche meglio sicuramente però insomma e forse io appunto lo rivedevo ieri forse anche mostra come poi in fondo gli attori raccolgano su di sé anche inconsapevolmente tutte le speranze le idee dei sentimenti e se ne fanno riscettacoli così senza quasi rendersene conto tant'è che io pensavo l'avevo visto la prima volta ed era l'avevo preso come un documentario di Herzog su Kinski poi invece appunto mi sono reso conto che Kinski è in quel caso è un è un corpo su cui un corpo anche violento su cui si riversa con violenza tutto l'amore tutta l'ossessione di Herzog per i propri film diventa il suo strumento in scena nel loro caso quasi si uccidevano io per fortuna non sono ancora arrivato a questo però nello stesso tempo ci senti nonostante che la violenza e anche i ricordi siano di rancore senti un amore sconfinato per questa persona che che gli ha regalato cinque film insomma che con cui gli ha dato modo di 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 fare cinque film senza di lui non sarebbero stati gli stessi e quindi credo sia forse la riflessione più bella che si può fare che che sia stata fatta insomma insieme al peggio di noi sul rapporto insomma sul fare film sul fare sul lavorare con gli attori insomma credo che sia tutto possiamo augurare buona visione grazie molto a voi grazie a voi noi la prossima settimana faremo un altro incontro diciamo non proprio di questa serie però simile faremo una presentazione venerdì sera di nove faremo una presentazione di un libro scritto da due nostri collaboratori si chiama Tokyo Syndrome che è un libro editato da Falzopiano sul no horror giapponese verranno i duratori e subito dopo presenteremo questo film Cairo che sarebbe l'originale di Pulse che poi è uscito di Kiyoshi Kurosawa che è un veramente un film straordinario che in Italia è uscito al cinema credo un giorno in piena estate quindi non ha visto nessuno quindi è una specie di primizia di esclusiva che facciamo in collaborazione con la società che lo ha prodotto che è la media film che lo distribuisce anche un DVD mi auguro che veniate perché il cinema giapponese il cinema oro giapponese è uno dei nuovi cinema interessanti del panorama internazionale e questo film in particolare Pulse o Cairo il titolo originale giapponese credo che sia uno dei film più importanti assolutamente da vedere in più avremo questo libro che è scritto molto bene ed era sempre presentato da noi di Sentieri Selvagi vedo il prossimo spero che qualcuno di noi ci sia